Ciao, Massimo, Massimo, ciao. Benvenuti a Terra degli Asini, questa è la nostra azienda agricola, la nostra fattoria. Oggi, molto semplicemente, vi presenteremo i nostri asini e poi avrete l'opportunità di, se non l'avete mai fatto, di toccare da vicino, conoscere un asino, portarlo alla cavezza, portarlo fuori, prenderne cura. Partiamo da lei, lei è Nerina, per dire così conosciamo anche un po' i nomi. Se si arriva da dietro, lui non capisce che siamo noi, che siamo delle persone, per lui, noi siamo dei predatori. Potremmo essere un lupo, potremmo essere un orso, tanto per citare un predatore. Pertanto loro hanno questo simpatico vizio di tirare dei calci. Allora, una cosa importante che dobbiamo sapere, per la nostra sicurezza, è quello di non mettersi mai dietro al sedere degli asini. Francesco con Lenni. Lei si chiama Lenni? Lenni. Sì, Lenni è. Poi c'è Filippo con Benny, che è una sorella, sono due sorelle, loro due, e Mattia con Spugnetta. Vi faccio vedere, vi faccio vedere come si fa. Sempre nel senso del pelo, gli si dà una bella grattata e poi si passa con la brusca. di solito d'estate sono pieni di polvere e invece d'inverno sono pieni di fango. Adesso noi finiremo questa attività e diciamo, diciamo, guarda che belle sono pulite, sono a posto. Loro rientrano nel recinto e cosa faranno la prima cosa? Si rotterano nel fango. La prima cosa che fanno è quella. Scendi verso la schiena. Vedi che stai già prendendo mano. Postati un po' più in qua adesso, così. A te. 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 A te.